14 minuti EMOM per questo nostro giovedì 18 aprile 2019, nei minuti disperi 10 ring rollout e nei minuti pari 5 più 5 one leg skate squat. A seguire 3 round for time di 400 metri run, 20 oppure 15 calories slow e 10 burpees. Pesi e scalature come sempre sulla grafica, ci vediamo domani per l'ultimo vlog della settimana e buona giornata a tutti.